Il primo tempo stavamo giocando molto bene, avevamo anche anestetizzato un po' gli avversari ma con un gol su una punizione inesistente che hanno fatto si sono ripresi però speriamo che il secondo tempo la pareggiamo subito e portiamo questa partita a casa Niente da fare nemmeno nella terza giornata di campionato di seconda categoria Questa domenica non ha sorriso la New FG Sporting di mister Franco Villirillo reduce da un pregio esterno e condannato da un gol subito nel primo tempo Davanti alla squadra cotonesa il martelletto settingiano che ha approfittato di un'azione per portarsi a casa la partita La spinta del rosso-blu con tante palle gol e le occasioni non ha ribaltato infine il risultato Adesso c'è la sosta e poi si giocherà in casa della Gasperina seconda forza attuale di campionato La spinta del rosso-blu con tante palle Le Maeve Unisica La spinta del rosso-blu con il pasello Le grande spinta del rosso-blu con il bambino La scena è una parte delle mie giornate La scena è stato apportizzato di una sportione Per una scena è stata apportiva di metà un'azione per il risco La scena è stata adonata di una scena è stata spinta Cosa c'è da fare per questa prima vittoria? Bisogna fare gol perché anche se crei tante palle gol ma poi alla fine se non la metti dentro le partite non si mettono, loro in fatto hanno avuto una mezza azione, un calcio piazzato e hanno fatto gol, comunque rispetto alle altre due partite la squadra sta cominciando a girare dai, ma la prossima stanza abbiamo la sosta e siamo così anche a recuperare i 4-5 infortunati che sono molto importanti per la squadra. È stato un match combattuto, penso che noi abbiamo fatto di più di loro, hanno fatto gol su una palla inattiva e oltre a questo non hanno creato nulla, nel secondo tempo noi siamo stati tanti pericolosi, il portiere è stato bravo, penso che meritiamo di più della sconfitta, pure la vittoria, il pareggio ci stava pure stretto. In tre partite un solo punto, ma come si conquista la prima vittoria? Beh, la squadra piano piano si sta amalgamando, ma abbiamo la sosta e rientrano gli infortunati, quindi utilizzeremo questa settimana per riprenderci, allenarci, anche perché a livello fisico siamo indietro rispetto alle altre squadre. Eh, abbiamo portato a casa i 3 punti, meno male, ci siamo allenati apposto per questo. Come ha giocato il martelletto Settinzà? Oggi un pochino sofferenti, non so che, eravamo un pochino nervosi, ma l'importante è aver portato a casa i 3 punti. La rivale? La rivale è un'ottima squadra che può dare da filo da torcere durante il campionato, siamo ancora all'inizio. Abbiamo lottato, ma purtroppo oggi è andata male. Sarà per la prossima, dobbiamo fare un po' di gruppo e un po' di quadrata, abbiamo due settimane, quindi ci riuscire, piano piano. Dobbiamo recuperare un po' di elementi importanti. Un bell'infortunio. Un bellissimo infortunio, come hai potuto vedere, mi hanno dovuto portare in braccio, quindi... No, no, è stata una partita tosta del resto, io purtroppo ho visto, sono dovuto uscire che mi sono fatto male, però nel complesso ci siamo, Daniele, dai. Ma la io fanno il suo pallone, però. E tu me ne vanno a spettare di... E tu vieni in questa maniera? No, prima manca solo. Buona, raga. Forza FG Sporting. Forza FG Sporting Crotone. Forza FG Sporting. Sempre forza FG Sporting. Con un bagno nel fango. Allora, Cristian Drago ci ha o ci ha? Ci ha, ci ha. 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 Ci ha, ci ha.